ciao ragazzi è un nuovo video allora un pochettino di verbo prima domani dicevo delle cuffie non sentite più di quel tutto il tempo e basta e poi il secondo Mirko poi non può giocare da... poi non può giocare perchè c'ha dei impegni molto... si e si allora ci vedremo il primo giugno o che ne so un altro giugno però io faccio lo stesso i video quando voglia poi forse tutti i giorni ecco o vieni a casa mia eh... eh si eh così eh... ok che cosa ok aspetta guardiamo che cos'è c'è poca cosa aiutami ho rotto il nome intero ora prendiamo questo mettiamo qua allora c'ho un secchio d'acqua qua ci sono cos'è prima eh... eh... un'altra cosa allora io mi sono venuto il te... eh... una cosa che... che... che uno solo può entrare eh... poi quasi tutti entra nel server però lo dovete sapere chi mi scrive su Discord che... poi però io e Mirko poi facciamo lo stesso eh si chi mi scrive prima su Discord può venire dentro il server che ci do la password e la mod che non che manca ancora una cosa su OnBlock bla 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 ancora una una parola manca eh si ora Mirko sa scavare fino alla sua vita e io... ma c'è l'inventario priano eh... su... perchè so butto ha? eh... eh... ok no mi sembra che ce l'avevo allora more buono cuore e Mirko viene tra poco spero che non deve chiudere eh allora facciamo così 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 so 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 no aiuto cosa in tutto le cose che non mi interessa questo è questo per l'accesso andiamo qua mettiamo qui eccolo qui e scaviamo un diamante ok bene ok 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 eh lo so lo so il pallone e che cos'è il pallone colciatore più bravo c'è sua sorella un po' più giocare cosa? eh fra aspetta che devo contare undici minuti dura poi lo chiudo cosa? knockback buono so fare una cosa aspettata devo scrivere a mio padre per una cosetta ecco qua uuuh deserto ma ora è detto tutte le cose ma le stesse cose che avevo detto prima un asine un asinello ma che hai ricevuto? ok certo però è strano cosa? che vuoi legno e nella base diamanta a che rucia a che rucia a che ru止 c'è fai che fai? che fai? non so, è un po' suspetita cosa? la terra aspetta che guardo qui qua non c'è, qua neanche ce ne abbiamo due di terra qua ce ne abbiamo un po' di terra no c'ho un tre di terra aspetta forse qua no poi guardiamo no procede ok tieni po' altri da me che fai? un albero come volevo vedere ho fatto il eh cosa che la terra si fa più veloce in garage tu volevi tipo fare l'albero ok 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 io scavo io scavo io scavo io scavo io scavo io scavo 3 gold che aveva un po' di attenzione ok ok mi devo metterci tipo di hopper sui scelmi allora lì c'è inter il coso è che devo fare una cosa che è importante che mi so farà arrabbiare non so fare tipo quello per questo prende tutto il te nel blocco e la mette tutta nella cesta che mi sta a fare un fastidio ora ci metto la cesta qui credo di sì lo portiamo ah sì li prendo Mirko guarda prende prende che siamo un villager poi cade lo stesso è una però dobbiamo essere tipo lontani però il hopper non può prendere così tante cose dobbiamo aspettare non li prende più ma è pieno devo controllare delle cose eh sono morto controlliamo un attimo una cosa saranno che non ho niente ah spero Mirko devo fare una cosa molto una cosa molto importante una molta cosa con la redstone è molto buono questa la potete anche copiare voi è facilissimo vi serve redstone una redstone repeater quello a due solo poi uno a tre e una leva per poi farcela allora vi serve accesso a butto poi il hopper vi serve uno solo ok allora mettete tipo qua hopper qua giù ah e poi è un'altra cosa vi serve poi un dropper che butta le cose poi ve lo mettete così che guarda così e poi una tipo di redstone così che si allora poi mettete un repeater così un repeater così qua 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 eh quello però lo deve toccare aspettate ok allora ci mettete tipo qua un questo fate così così non so come era ok ora questo così quello poi non ci dà tanto forte il segnale allora fate così e così ora quando buttiamo le cose questo lo conta tutto il tempo trippo buttare un blocco lo prende e lo butta molto ingegnoso ora devo sapere dove butta la cosa la cosa c.s ora devo sapere ora faccio tipo una fila di ceste c.s sapere dove mi butta la cosa quanti blocche allora guardiamo non ho peggio non sappiamo ok ok guardiamola qua no qua neanche, qua neanche qua neanche neanche ah l'opera era rotta ok lo controlliamo e ora l'ha preso aiuta me lo con no 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 eh ho visto qualcuno che era ecco ecco non l'avevo fatto una volta nella mia nel mio server privato non mi ricordo più tipo così facciamo no scatti che vuoi la possiamo fare che vuoi ah no l'avevo fatto un po' diverso allora eh il repeat ho messo così poi mi servono l'arresto l'arresto si lo so rispondono villager bu però ci serve qualcosa per farci poi lavorare mirkoscava lo sotto la butta però ho detto che la butta sì sì ma io non la vedo che li butta sì lo so che li prendo però aspetto non li prendo ah che scemo che ero ora mi ricordo perché scemo cosa ho sbagliato l'opera no mi ricordo ho rotto ho rotto il corpo ho rotto in che prova scava ecco lei si è rotto un po' di cose questo era sotto il cono allora allora forse dovrebbe ma che sono sponato sopra proviamo ora perchè e aspetta slash give m c c ok rs faccio vedere un attimo il col m not forza aspettate questo così ok ora le butta ogni volta vedete per il colpo solo fatto questo lo posso rompere ok 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 type ok 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 però non va non la possiamo mettere la possiamo mettere però ti faccio vedere dove devi scavare guarda guarda guardi vedi questa vai qua e lontano così no perchè tu vai così rompi quello di sotto 8 però per il meccanismo guarda non puoi la differenza la rabbia questi animali o così cosa le quision strength il haist quello per me minare più veloce e l'è rotto di e si è fatto di nuovo che rabbia aiuta dai scavo io qua tu fai le cose mamma mia provi a noi c'è il cosmo no 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 dove sono non so niente in game mode ma l'attacco ma dove hai fatto tutto son caduto è meglio di no che abbiamo la strength e rompiamo poi tutto dai mirko smettila vado come sei messo in creativa si perché non ho ordine prima non mi ha funzionato ucciderti prima non mi ha funzionato tu ah ah pfff è buono il suco ti sai che fai dai come ok ora basta più chiarci un diamante in che senso stai a guardarlo dai mirko con te non si può fare niente ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie.